E' terminata la cerimonia di estrazione delle carriere in Piazza della Libertà, si temeva per la pioggia ma fortunatamente il tempo non ha fatto capricci. Tutto si è svolto regolarmente, l'Araldo Messer Gianfranco Chiarichioni ha chiamato sul palco i paggetti dei quartieri per l'estrazione. La prima carriera quindi ad aprire la piazza sarà il quartiere di Porta del Foro, seguiranno nell'ordine Sant'Andrea, Porta Santo Spirito e Porta Crucifera. Il quartiere rosso-verde chiuderà come nell'edizione di settembre del 2012. C'è la musica dei musici, allora Capitano di Porta Crucifera Maurizio Fazzuoli, come nello scorso settembre nell'edizione del 2012, chiudete la piazza. Solita domanda, è un vantaggio o uno svantaggio? Speriamo che il risultato finale non sia quello di anno, perché abbiamo fatto il massimo punteggio e non abbiamo vinto. Però io ribadisco che per me la Giostra essendo quarti un piccolo vantaggio ce l'hai, sia in carriera perché guardi i punteggi del attimo, ma soprattutto se andiamo nei spareggi sai che sei ultima a tirare. L'avversario da battere? L'avversario da battere non è una risposta retorica, ma ci hanno voglia tutti come abbiamo noi di vincere perché è giusto che sia così. Sandro Sganappa, rettore di Porta del Foro? Io non volevo essere estratto per secondo, per cui va bene così. Tra l'altro avendo anche un fantino debuttante va bene correrebbe il premio. Senta, quando la vedremo all'opera, la Taguti? Martedì? Martedì, martedì in piazza Vasari per le prove. Eccio Vori, rettore di Santo Spirito e il capitano della Colombina. Rettore, com'è andata l'estrazione? Ma noi non avevamo nessuna preferenza di sorteggio, accettiamo quello che ci ha segnato la sorte, tanto siamo consapevoli di aver lavorato bene, cercheremo di riportare in piazza tutto il lavoro svolto alle nostre scuderie. Un vecchio adacio recita, non c'è due senza tre. Siamo, voleva rispondere il rettore. Non c'è due senza tre, il quarto viene da sé. Capitano Luca Pichi di Sant'Andrea, come sono andati? Insomma, non speravamo altro, questo bisogna essere, secondo me, primi o ultimi, secondi è una via di mezzo che non fa comodo a nessuno. L'avversario da battere? Tutti. Tutti, Santo Spirito. Ma gli altri che devono battere anche noi.